Siamo in fila per il Tutucola Live, prima fila ovviamente, tra l'istante dal palco, quindi minima. E stasera suonano in Tokyo Hotel. Siamo entusiasmate ma siamo stanche. Io non ce la faccio più, sono le 6 e 10 e noi siamo qui dalle 11 alle 15. Siamo sfinite ragazzi. E dobbiamo aspettare ancora 7 ore, dobbiamo aspettare fino alle 8 e mezza. Avremmo fatto 9 ore. Io sono indecente, mi sono svegliata stamattina alle 5 prendendo il treno. Sul palco ci sono Vale e Ale. Vabbè adesso chiudiamo perché sennò non posso fare i video per il Tokyo. Peace. Bella. Ellie Callis, Lalla Love Buses e Sprinnish, puntata numero non me la ricordo più. Ciao.